Cari amici buongiorno, allora oggi vorrei fare un video un po' diverso dal solito, non vi darò un assetto già pronto, completo, ma vi farò vedere quelli che sono alcuni degli errori più comuni che si commettono nel caricamento, specialmente quando si vogliono utilizzare componenti classici immischiati a componenti moderni. Intanto io ho già parlato di borre in passato, anche se l'ho fatto in maniera un po' superficiale, oggi approfondiremo un po' alcuni aspetti. Voi sapete che fondamentalmente si trovano in commercio due tipi di bossolo, bossolo in cartone, ecco questo per esempio è un vecchio bossolo in cartone, infatti innescato ancora col 645, è antico perché avrà almeno 40-50 anni, potete vedere come è molto rigido e particolarmente doppio lo strato di cartone che lo compone, quindi duro e rigido rispetto ai bossoli moderni. Tra l'altro esistono bossoli in cartone anche oggi, come sapete, ecco questo è un bossolo che dite, un bossolo che dite moderno, infatti innescato con CX2000, vedete anche come di dentro è un po' differente, non so se si arriva a vedere la differenza di colore all'interno, e se vedete lo spessore si vede pure che è molto più sottile, almeno una metà, rispetto a quello antico. Quindi queste caratteristiche che vi sto facendo notare avranno un loro peso nel momento del caricamento. E poi ci sono i bossoli in plastica che noi tutti conosciamo, ecco questo è un esempio di un bossolo fiocchi, un bossolo fiocchi in plastica, che ha delle caratteristiche ben diverse da questo e anche da questo. Quindi quando noi decidiamo di fare un caricamento oggi, dovremmo tenere conto del tipo di bossolo che andremo a scegliere, uno, e del tipo di caricamento e quindi di borraggio che vogliamo andare ad adottare. A volte, una volta esistono soltanto questo tipo di bossoli e questo tipo di borraggi, quindi non si sbagliava, intorno al mente si metteva questo, si metteva un cartoncino, cosiddetti catramati, che poi sono questi cartoncini neri qua. Sopra si ci metteva la borra in feltro, che era questa qua, per esempio questa era una buona vita. C'erano di tanti tipi, c'era questa qua, una buona vita super, poi c'erano le buone vite quelle classiche, queste qua, eccetera eccetera. Queste erano, dove erano, delle purgotti speciali per il tirpiccione, per esempio, eccetera. Ecco, si faceva questa scelta fondamentalmente e si caricava tenendo conto di questo tipo di borraggio e di questo tipo di bossolo. Qualcuno caricava addirittura anche con sughero, vedete questi sugheri molto lunghi, questi sugheri erano già grassati, cioè erano ben paraffinati, e venivano utilizzati come borraggio. Anche questi, di solito sopra, un cartoncino di questo tipo. Questi tipi di caricamenti che facevano i nostri nonni, oggi non sono più facilmente realizzabili, sia perché i materiali sono cambiati, sia perché quelli antichi, i materiali antichi che ancora ci sono, hanno perso il loro grassaggio e quindi la loro tenuta. In ogni modo. Oggi vedo che molta gente fa dei caricamenti senza tenere conto dell'importanza che hanno i componenti in base al bossolo. E ho visto gente che caricava tranquillamente col bossolo di plastica e metteva un cartoncino di questo tipo. Questi sono errori che possono sembrare banali, ma che comportano l'ottenimento di una cartuccia che non ha niente a che vedere con quelle che erano le vecchie cartucce, i vecchi caricamenti, pur avendo apparentemente componenti quasi uguali. Ma in realtà così non è. Se vedete un pochettino questo bossolo in plastica, guardate quanto è facilmente pieghevole e morbido, quindi estremamente elastico. Questo valla a piegare, molto più rigido, molto più difficile da potersi muovere. Quindi è chiaro che la tenuta che abbiamo con questo tipo di bossolo, con i componenti antichi, non è quella che abbiamo con il bossolo moderno. Vedete, quando voi infiate una borra di questo tipo, anche se è molto ben grassata ed è di quelle antiche in ottimo stato, la tenuta la farà tutta la borra, non certamente il cartoncino che ci andremo a mettere sotto. Questi si chiamavano cartoncini catramati perché spesso le borre che erano piene di grasso facevano scolare un po' del grasso sopra questo cartoncino che praticamente lo raccoglieva, non lo faceva andare a contatto con la polvera. Si può dire che l'unico scopo di questo cartoncino era questo. All'interno di un bossolo doppio come questo qua, la resa era discreta. Perché? Perché la rigidità della borra, unita alla rigidità delle pareti del bossolo, davano una discreta tenuta ai gas che si producevano con la combustione della polvere. Questa discreta tenuta permetteva di fare delle cartucce abbastanza buone. Oggi, utilizzando questi due tipi di bossolo, in particolar modo questo in plastica, noi vediamo che la tenuta è molto inferiore per quello che riguarda la parte laterale perché basta che c'è un minimo di forza che già il bossolo si piega e fa passare tutti i gas. Cosa che non avveniva assolutamente con questo. Io questo qua lo posso piegare qua sotto come se niente fosse. Valla a piegare questo qua sotto. Guardate che differenza di rigidità che c'è. Anche se parliamo dei bossoli in cartone di ora, non hanno, pur essendo sì più rigidi rispetto a quelli in plastica, comunque sia, non hanno la rigidità dei vecchi bossoli. Quindi questo comporta inevitabilmente una minore tenuta di gas. Allora, quando noi dobbiamo andare a caricare, dobbiamo assolutamente tenere conto di questo. Andiamo un pochettino agli altri componenti. Ah, ecco, questo l'avevo dimenticato di presentarlo. Questa è una novità di ora, si chiama RWL. Sono dei cartoncini prestati molto rigidi, molto duri, che ci possono sicuramente aiutare nel caricamento quando utilizziamo il cartoncino. Un po' meno se usiamo la plastica. Perché, in effetti, qual è la funzione? Ecco, noi mettiamo questo tipo di... Questo elemento qua si chiama coppetto o cuvetto. Questa qui, essendo in plastica, quando arrivano le pressioni da sotto, la spingono, pressano nella base. La base la fa espandere e praticamente la parte laterale della cuvette va a impiccicarsi con un effetto ventosa nelle pareti di un bossolo, nel caso del bossolo in plastica. Quindi va a detedire. Quindi cosa succederà? Ci sarà una certa elasticità da parte del bossolo e da parte della cuvette, nel senso che i gas si espanderanno un pochino. Però si fermeranno, perché una volta che questo espandendo si va a toccare le pareti del bossolo, si appiccica le pareti del bossolo, anche allargandosi e aderendo perfettamente alle pareti, impedirà a tutti i gas di passare. Quindi avremo una tenuta perfetta che ci permetterà di raccogliere tutta l'energia e lanciare i pallini. Se noi utilizzassimo quest'altro sistema, pur essendo molto rigide, molto duro, molto resistente, sicuramente reggerà alla pressione dei gas. A differenza della cuvette, non si deformerà e quindi non andrà ad aderire alle pareti in quella maniera. Ma siccome già aderisce alle pareti, noi potremmo pensare che comunque già la tenuta ce l'ha. E invece no, perché le pressioni dei gas tenderanno alle pareti, le faranno dilatare. Questo non si dilata assieme alle pareti del bossolo, quindi resta fermo. E resteranno delle fessure tra la parete del bossolo e questa cuvette, o meglio questa RVL, tali da fare sfiatare ugualmente, quindi fare passare parte dei gas. Quindi sicuramente avranno una tenuta migliore rispetto al cartoncino nero. Però, utilizzandolo in questo tipo di bossolo, non avremmo ugualmente dei buoni risultati. Avremmo sicuramente degli sfiati. Cosa comportano gli sfiati? Abbassamento di pressioni, abbassamento di velocità e, nei casi più sfortunati, anche fusione dei pallini e grappoli. Oggi abbiamo una fortuna per poter dimostrare un po' questa teoria. E la fortuna ci è stata data grazie all'amico Alex del triobico, che gentilmente mi ha permesso di accedere a un paio di bancature sue. E fra l'altro è stato anche così gentile da permettermi di condividerlo con tutti voi. E lo ringrazio, anzi, per questo motivo, perché ci sta dando una bella opportunità. Noi non siamo abituati a utilizzare le bancature. Voi sapete, almeno io, dalla mia parte ci sono dei balipedi. Quindi la lettura di una bancatura è una cosa che non tutti riconosciamo, non tutti noi sappiamo fare. Spesso vediamo su internet questi valori di banco, questi numeri. Ci soffermiamo in genere sulle velocità, sulle pressioni, ma a volte non sappiamo neanche di che si tratta. Certe volte pensiamo che più alte sono la velocità, meglio è. Ma in effetti non è proprio così. Allora, Alex ha fatto delle bancature su cartucce appositamente create e sballate che contengono questo tipo di borraggio classico, se vogliamo. e ha voluto vedere un pochettino come reagì a questo borraggio classico all'interno dei bossoli in plastica moderni. E quindi abbiamo, mi ha passato due prove che adesso farò vedere a voi e che io penso siano abbastanza interessanti. Andiamo alla prima prova. Ha utilizzato come polvere la GM3 nuova. In calibro 12 la GM3 ha fatto un 12-70-616, quindi un bossolo 70 innescato con il fiocchi 616 e ha caricato la GM3 in carica di 1,65x33. Ha utilizzato piombo 8 rullato. Eccolo qui. Per chi non lo conoscesse, il piombo rullato è questo piombo un po' ammaccato che può essere utile quando si vogliono fare delle dispersanti. Caratteristica di questo piombo rullato è che fa abbassare leggermente le pressioni. Quindi anche di questo dobbiamo tenere conto. Le pressioni, mi diceva Alex, scenderanno ad un 40-50 bar rispetto a una cartuccia normale. Andiamo a vedere altre caratteristiche di questo caricamento che, come dicevo, è appositamente fatto sballato. Cartoncino nero, l'abbiamo visto. Eccolo qua. Questo qui. Il famoso catramato. Più un sugherino di 18 mm. Allora, un sugherino alto 18 mm all'incirca come questo qua. Ok? Ora parleremo un pochettino del sughero e vedremo perché probabilmente tra i tipi di borraggi è quello peggiore in assoluto. Insieme con questo qua, che famoso chimico di cui oggi non vedremo applicazioni, però l'ho voluto fare vedere perché fa parte dei borraggi classici. Non voglio contestarlo più di tanto. sappiate che sicuramente non è l'ideale, non è il massimo per ottenere cartucce ad alto rendimento. Quindi, sugherino di 18 mm. Eccolo qua. Poi ho utilizzato una borretta di crina della Sierm di 6 mm. Sono delle borrette che io purtroppo non ne ho qua a portare di mano, però sono delle borrette che faceva la Sierm. Non so se le fa ancora. senza cartellati, fatte praticamente con crini di cavallo, quindi praticamente una borra in feltro, però soltanto 6 mm di lunghezza, quindi piccolino in questo caso, che ha un'influenza minima. Poi mette un succhino da 4 mm che potrebbe essere qualcosa di simile a questo. vediamo un po'. Ha questo qui. Quindi piccolino. E un ultimo cartoncino di chiusura. Ha fatto un orlotondo a 66,5 mm. Andiamo a esaminare questa cartuccia e vediamo perché è pessimo. Dopodiché andremo a esaminare i valori di banco. Allora, abbiamo detto che ho utilizzato un bossolo in plastica e ci ha messo un cartoncino nero. Come vi ho detto poco fa, pessima scelta. Il cartoncino nero di suo non ha nessuna tenuta. Non è in grado di espandersi e quindi la sua presenza in un bossolo di plastica che si dilata facilmente non dà tenuta. Seconda scelta ancora peggiore. Sugherino a 18 mm. Eccolo qua. Il sugherino ha due caratteristiche. Pessima tenuta ed estrema elasticità e morbidità. Questo vuol dire che nel momento in cui abbiamo un sugherino così grande tutto lo spazio occupato da questo sugherino nel momento dello sparo le pressioni lo comprimeranno e quindi il gas si potrà espandere per tutto questi 18 mm quasi abbassando bruscamente ed eccessivamente le pressioni della cartuccia. Quindi la spinta ne risentirà, le pressioni ne risentiranno, la velocità finale ne risentirà. Questo crine di 6 mm SIRM è l'unico elemento che tutto sommato poteva dare un piccolo aiuto anche se di suo è comunque rigido e pur essendo un po' più rigido il sughero è comunque morbido quindi fa ben poco e dolce in sinfundo ma altri 4 mm di sugherino come se non bastassero i 18 mm che già avevamo messo per andare ulteriormente a diminuire la la pressione quindi avrà una cartuccia che farà un rumore strano e probabilmente avrà una pressione minima. Un errore gravissimo è quello di mettere un sugherino tra il cartoncino e la borra perché questo crine si arma semilità alla fine una borretta in feltro non si sa mai di mettere un sugherino sotto la borra in feltro quasi a contatto con la polvere i sugherini servono sempre da spessore e si mettono dopo la borra perché in questa posizione agiranno facendo espandere i gas se c'è la borra che è più rigida qua la espansione dei gas sarà limitata dall'influenza della borra ok andando avanti andiamo un pochettino a vedere ah poi chiuso l'orlotondo tra le altre cose quindi già c'è un abbassamento delle pressioni notevole la chiudiamo pure con una tonda che quindi di suo fa abbassare le pressioni rispetto a una stellata abbiamo ottenuto una cartuccia scusate il termine è scacata ed ecco i valori di banco 321 metri al secondo che sono valori subsonici praticamente quindi a velocità ridicola e 418 bar una pressione a stavolta ridicola già di suo la cartuccia è da scartare sparerà una rosata molto probabilmente strana dispersa a bassissima velocità insomma vediamo un pochettino come si è con i valori di banco abbiamo ah ecco il tempo di canna non l'avevo messo comunque il tempo di canna anche se non non ce l'ho portata in mano era anche abbastanza breve perché la scusate è abbastanza lungo perché con questo tipo di avvorraggio così morbido inevitabilmente pur essendoci 1,65 di polvere che per la GM3 con 33 grammi è una dose buona nonostante questo i valori come vedete sia velocità che soprattutto pressione sono sotto le scarpe i tempi di canna saranno lungi perché la polvere non brucia bene non c'è abbastanza intensamento da farla bruciare bene e quello che brucia viene tutta l'energia viene assorbita dal dal sughero quindi cartuccia pessima assolutamente da non replicare andiamo a vedere un altro tentativo sempre con GM3 dose simile 1,60x32 anche se un po' diversa sempre il stesso piombo rullato che a sua volta fa diminuire le pressioni questa volta abbiamo preso però un componente che ci aiuta bossolo 67 e non 70 il 67 avendo una volumetria minore fa aumentare un pochino le pressioni quindi ci aiuta a fare bruciare meglio la polvere la vivacizza un po' sempre però qua abbiamo la pessima scelta del dischetto nero eccolo qua niente non ci sta questo è un bossolo di di plastica questo pischetto non ci deve stare seguito da una borra iris da 14 allora la borra iris purtroppo qua non ce l'ho comunque è fatta fondamentalmente per chi non la conoscesse da un sughero naturale che andiamo a segnare un po' il colo ecco questi sono dei sugheri naturali al centro tra un sughero naturale e un altro sughero naturale c'è un po' di feltro particolarmente duro e poi raffinato è una borra ottima prodotta nel periodo degli anni 60 veniva utilizzati con polveri come l'MB tabacco famosa per esempio e l'utilizzavano per il tiro piccione era una cartuccia che però imbossero in cartone con la polvere adatta quindi polvere che avevano bisogno di inneschi deboli come per esempio l'MB per 32 permetteva di lanciare grammature alte come le 36 grammi abbassando un pochino le pressioni perché comunque sia è sempre una borra che ha del sughero intorno con un'ottima tenuta e loro mettevano uno di questi sugherini di inchiusura in cima alla cartuccia con orlo tondo anche questo tendente ad abbassare leggermente le pressioni insomma permetteva di lanciare 36 grammi con maggiore dolcezza ed efficace facevano delle borne rosate in quel caso l'iris sicuramente era una buona scelta ma nel nostro caso è una pessima scelta perché abbiamo un bossolo in plastica abbiamo un cartoncino che poteva andare bene forse se l'avessimo utilizzato in un in un vecchio bossolo in cartone abbiamo questa iris qua quindi anche qua dovremmo aspettarci che le pressioni purtroppo scendano verticalmente alla iris il nostro amico ha aggiunto un feltrino di 6 mm questo potrebbe aiutare un pochettino perché irrigisce un pochettino la situazione ma comunque non ha tenuta fino a una borra di plastica e un succherino di 4 mm il tutto è stato chiuso in stellare a 55 quindi ha cercato di compensare a un borraggio scelto assolutamente male perché il borraggio non è assolutamente adatto a questo tipo a un bossolo in plastica ha cercato di compensare per vedere cosa succedeva utilizzando un bossolo più corto e chiudendo il stellare quindi le uniche cose gli unici due elementi che ci possono aiutare sono la chiusura stellare che chiude più bassa e quindi fa aumentare un pochino le pressioni è ovviamente l'utilizzo di questo di quest'altro elemento del feltrino ma è delle scusatemi la scelta di un bossolo del 67 e non 70 però anche in questo caso i risultati saranno piuttosto deludenti andiamo a vedere anche qua abbiamo un avvolo di 318 ms quindi decisamente bassa più o meno come quella di prima ecco tempi di canna è di 2281 quindi praticamente la polvere è tutto sommato ha bruciato bene considerate che più bassi sono i tempi di canna meglio vuol dire che la polvere brucia quindi 2281 per una polvere come la GM3 è un buon valore però pur avendo bruciato bene attenzione solo 548 bar di pressione quindi abbiamo migliorato un po' sulle pressioni siamo a 540 contro i 418 della cartuccia precedente abbiamo mantenuto la stessa velocità 318 320 siamo là però i tempi di canna di questo non lo sappiamo però anche se andiamo a vedere saranno molto simili però la cartuccia alla fine sarà a velocità molto basse e avrà una pressione che con un minimo di abbassamento di temperatura la porterà sotto le scarpe tenete conto che una pressione per essere accettabile deve essere intorno ai 700 bar in modo da avere una cartuccia piuttosto costante nel tempo perché pressioni sotto i 700 bar facilmente risentono dell'abbassamento di temperatura e l'umidità cioè anche quelli di 700 bar scendono però scendendo si mantengono comunque a valore di 600 che diciamo più o meno sono accettabili con molto freddo continuano la cartuccia ad essere più o meno utilizzabile queste qua che già partono da pressioni basse facendole scendere ulteriormente fanno sballare completamente tutti gli equilibri della cartuccia quindi possiamo dire che anche la seconda cartuccia è assolutamente da non replicare cartuccia pessima perché presenta valori di pressione di velocità non adatti non accettabili per quelle che sono esigenze venatorie